Il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno è stato eletto all'unanimità presidente regionale dell'Unione delle Provincie Calabresi. L'indicazione è avvenuta nella riunione che si svolta a Catanzaro alla presenza del presidente della provincia di Vibo Valencia Andrea Niglia, del presidente del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria Antonio Eroi, di Giulio Serra e delegato del presidente della provincia di Cosenza Mario Occhiuto. Enzo Bruno rappresenterà la voce delle cinque province calabresi al tavolo della governance regionale in questo periodo delicato di riordino delle istituzioni locali, ha dichiarato il presidente della provincia di Vibo Niglia, esprimendo soddisfazione per la scelta condivisa all'unanimità. Grazie per la visione!